amici carissimi buongiorno sono qui per presentarvi una novità interessantissima da parte di casa snai le quote di x factor il talent show più seguito dagli italiani cominciamo però con una domanda a quale categoria appartiene il cantante o gruppo al quale sarà assegnata la canzone che è stata pubblicata prima di tutte le altre se pensate che la risposta giusta sia over 1 gruppi 2 o under donna 3 under uomo 4 e adesso pronti divertiamoci con le quote perché c'è la possibilità di scommettere quale tra i quattro super giudici di questa manifestazione divertentissima sarà il vincitore la quota di mica super favorito è al 30 per cento per chi invece appoggiasse morgan 5 tondo tondo per chi volesse scommettere simona ventura 5 e 50 e per chi invece ha deciso di puntare su elio la quota è ancora più ghiotta 7 e 50 per quanto riguarda invece i ragazzi e le ragazze che partecipano a questa fantastica iniziativa televisiva la favorita al momento è violetta zironi la ragazza con lo ukulele la quota è di 3 e 30 ancora con valentina tioli che insomma in questo momento risulta essere la contro favorita della competizione con la quota di 5 terza favorita è gaia galizia con la quota di 6 ancora 7 per michele bravi 10 per gli up escape e roberta pompa 12 per gli street clerks 15 per andrea d'alessio chiara gallana altro 15 ovviamente altro sono tutti cantanti che io non ho ancora nominato queste le quote di questo programma davvero importantissimo www.snai.it cliccate nella sezione eventi televisivi x factor così potrete divertirvi insieme a noi a scommettere chi tra tutti i partecipanti potrà essere il vincitore e non solo grazie a tutti